Ho aperto nel 1984, i primi anni stavo in sala, poi mi ero stancato di stare in sala e di fare le stesse cose e ho deciso di iniziare in cucina. I primi due anni senza giacca, non me la meritavo, quindi ho lavorato con la camicia e poi ho scoperto che dentro di me c'era qualcosa e ho cercato di tirarlo fuori. Oggi si vede il prodotto di tutto questo, ma ci sono stati in mezzo 26 anni di vita spericolata, come dico sempre, dove non mi sono mai risparmiato, dove mi sono sempre messo in discussione, quindi penso che queste sono state le caratteristiche del mio percorso. In questo momento godo di un mio bagaglio culturale ampio, posso andare dal crudo al cotto al molto cotto senza problemi, posso cucinare un alimento che si consuma in mezz'ora, come posso cucinare un alimento che mangerete fra cinque anni con la stessa semplicità e questo mi fa sentire molto ricco spiritualmente. Mi ci trovo, mi sento ancora con molta energia e con molta voglia di fare, quindi vi aspetto per nuove e brillanti ricette sull'aceto balsamico di Modena.